Ciao a tutti, oggi sono veramente molto contenta perché vi presenterò un tag cioè farò un tag che ho realizzato insieme a Silvia del canale SissiTube allora voi sapete quanto io adoro comunque Silvia, mi piace come persona, traspare la sua personalità gioiosa è veramente stupenda, cioè se volete, se siete di cattivo umore e volete veramente rilassarvi e godervi la vita e farvi 4 risate, guardatevi SissiTube perché è veramente fantastica come ragazza comunque mi ha contattato, io ero tutta contenta per fare appunto un tag e il nostro tag è i programmi TV Book Tag questo tag consiste in 10 domande che abbiamo realizzato io, abbiamo inventato io e Silvia SissiTube e ad ogni programma corrisponde la relativa lettura e il relativo libro quindi passiamo subito perché oltretutto tutti i libri che ho scelto li ho letti in ebook quindi vi metterò le foto qua allora, iniziamo subito Chi lo ha visto? Un thriller o un misteri talmente coinvolgente da farti perdere tra le sue pagine allora, non è stato tanto difficile devo dire che io ho letto molti thriller e quindi diciamo che è una certa dimestichezza con il genere però non ho mai trovato dei thriller poi così affascinanti diciamo non così scontati quasi sempre a metà libro più o meno snasavo chi era il colpevole invece in questo è stato veramente difficile diciamo condurre le indagini insieme ai personaggi e sia emotivamente e sia proprio perché le prove erano veramente sotto gli occhi di tutti però erano dei particolari talmente piccoli, talmente considerati futili che non li si notava comunque di cosa sto parlando? sto parlando del libro di Carol O'Connell Alison Corr nel buio la vicenda si apre con una bambina di 8 anni che si trova al parco con un sorriso piuttosto particolare e che va in giro con una maglietta macchiata di sangue dicendo mio zio è diventato un albero cosa succede? dopo questa frase inquietante viene scoperto che nel parco è stato appeso a un albero dentro a un sacco legato e torturato questo zio che poi subito si scopre essere in realtà un pedofilo che probabilmente doveva aver circuito la bambina perché è anche carino il fatto che si intreccino determinate tematiche insieme praticamente alle indagini perché? perché questa bambina, Coco, è affetta dalla sindrome di Williams quindi praticamente insieme alle indagini si intrecciano le vicende di Coco, questa bambina e di Kate Mallory che è la detective che si occupa delle indagini e man mano si scopriranno diciamo delle dinamiche scolastiche di bullismo che hanno portato l'assassino ad avere quel modus operandi nell'uccidere vengono toccati più punti e vengono anche, visto che il libro comunque non è corposissimo però sulle 400-500 pagine ci arriviamo tutte devo dire che è un libro che va a toccare più tematiche che vengono anche sviluppate bene come ad esempio la tematica del bullismo a scuola e devo dire che è stato un libro che mi ha tenuto veramente tenuta e incollata al libro quindi mi sono letteralmente persa tra le sue pagine seconda domanda La vita in diretta un romanzo di narrativa in cui si racconta la vita del protagonista anche qua la scelta è stata abbastanza facile e semplice il libro in questione è Le Ceneri di Angela scritta da Frank McCourt Frank McCourt è un irlandese sostanzialmente vissuto nel primo dopoguerra che si ritrova a vivere a Limerick in un periodo in cui c'è povertà ovunque come dice lui, figuriamoci in Irlanda nel primo dopoguerra e inizia a raccontare la storia della sua vita da quando ha otto anni fino a quando lui non cresce e poi si trasferisce in America la cosa bella è che lui adatta i racconti in base all'età di quel racconto quindi quando voi leggete un episodio che gli è accaduto otto anni voi lo leggete come se quell'episodio ve lo stesse raccontando un bambino di otto anni quindi nella sua drammaticità cerca di sdrammatizzare facendo raccontare la storia al suo io bambino ed è veramente molto carino perché si vede come delle situazioni di estrema povertà e ignoranza il bambino innocente come è vedesse tutte altre cose è molto bello come libro ve lo consiglio è uscito anche il film lui ha dedicato il suo libro e il film a sua mamma appunto Angela da qui il titolo Le Ceneri di Angela e ha dedicato il libro a lei anche perché lei per poter crescere i suoi figli in diversi episodi si è prostituita e quindi lui vuole dedicare questo libro a sua madre che non credo neanche si sia trasferita con lui in America credo che sia mancata proprio in Irlanda è un libro meraviglioso poi terza domanda detto fatto un libro in cui il protagonista ha delle abilità innate che padroneggia al meglio allora in questo caso mi è venuto in mente Graceling di Christine Cashore di Kate questa ragazza nata con due occhi dei colori diversi che è un Graceling quindi un individuo che è nato con delle abilità che riesce oltretutto a padroneggiare al meglio quarta domanda l'eredità un libro che lasceresti in eredità ai posteri allora visto che è soltanto un libro io lascerei ai posteri lo Hobbit di Tolkien perché trovo che l'ambientazione fantasy di Tolkien sia un qualcosa di spettacolare cioè chi è che non vorrebbe vivere nella contea e il mondo il fatto anche non lo so la storia e tutto lascerei appunto in in eredità lo Hobbit quinta domanda Elisir un libro in cui si parla di incantesimi o di magia a me in questo caso è venuto in mente le guerre del mondo emerso sono le storie di Nihal sostanzialmente e là venivano utilizzati c'erano i maghi elfi veniva utilizzata la magia oltretutto è uno dei primi libri fantasy che lessi a liceo e devo dire che comunque mi piacciono non avevo letto Tolkien però come fantasy mi era piaciuto veramente molto stessa domanda porta a porta una saga un libro che si è venuto a conoscenza grazie al passaparola allora diciamo che l'unica l'unica libro o saga in questo caso di cui sono venuta a conoscenza tramite il passaparola e la saga lo so vi sto facendo due palle così con questo libro è la saga di Publio Eurelio Stazio appunto quello di Danila Comastri Montanari quello praticamente sono venuta a conoscenza di quella di quella saga tramite una collega di lavoro di mia mamma che stava leggendo quei libri e che gliela ha consigliati io ho letto il primo Cave Canem e da là mi sono innamorata mi sono persa nel mondo di Publio Eurelio Stazio domanda alta infedeltà una storia d'amore che è tanto sperato e non è mai avvenuta allora in questo caso forse troverò metà delle persone contro però una storia d'amore che io ho sempre sperato e che per me era più plausibile nel modo in cui si erano sviluppate le dinamiche tra i due personaggi nel libro è Harry Potter e Hermione che secondo me nonostante l'inizio Harry fosse innamorato di Ginny diciamo che man mano nella vicenda Hermione si avvicina molto a lui e viceversa quindi la storia con Ron secondo me è stata abbastanza forzata alla fine non l'ho vista come uno sviluppo naturale della storia della vicenda l'ho visto come qualcosa di forzato detto ciò Harry Potter ed Hermione poi Le Iene un cattivo che ami sicuramente è in realtà il lord reggente di Missborn perché perché Brandon Sanderson man mano ti fa capire come una persona che inizialmente può sembrare cattiva perfida malvagia in realtà c'è un motivo per cui è così quindi la maggior parte delle volte se non si è sociopatici c'è un motivo per cui si fanno determinate azioni che ovviamente troveranno sempre qualcuno che è diciamo insoddisfatto contrario e ci sono degli eventi che ti portano a compiere determinate azioni e magari poi vieni considerato cattivo poi nona domanda la prova del cuoco un libro culinario un libro che parla di cucina allora io non ho letto nessun libro che tratta la tematica cucina ma ho letto un fumetto che vi consiglio tantissime di cui vi avevo già parlato nelle letture probabilmente di aprile e sto parlando di Chu io ho letto i primi due numeri ed è praticamente un thriller culinario scritto da John Lyman e illustrato da Rob Guillory allora sostanzialmente ve ne avevo già parlato una delle vicende di Tony Chu questo agente che è un cibo patico e che quindi sostanzialmente nel momento in cui assaggia la pietanza non soltanto gli ingredienti che compongono la pietanza ma anche magari cosa è legato a quegli alimenti se quindi c'è schizzato magari il sangue di una vittima lui lo sente e iniziano le indagini e è particolare perché praticamente John Lyman si immagina un mondo in cui la carne di pollo è vietata a causa dell'aviaria quindi si immagina che ci sia stato praticamente un'epidemia di aviaria che abbia praticamente decimato la popolazione mondiale e quindi nel mondo è stata vietata la carne di pollo quindi diciamo da una parte abbiamo le vicende e le indagini di Tonicciu e dall'altra parte abbiamo invece le indagini relative diciamo al traffico illegale di carne di pollo X Factor un libro dove il protagonista insegue i propri sogni allora io ho trovato diciamo che Harry Potter comunque fosse il libro dove nascesse proprio la consapevolezza cioè dove l'autrice voleva fare nascere in te la consapevolezza che molte volte se desideri una cosa la puoi ottenere diciamo lottando e sfruttando le tue capacità lo puoi ottenere queste erano dieci le domande sono finite io spero che questo video vi sia piaciuto io e Silvia ci siamo divertite un sacco a sentirci a fare le varie frasi con i messaggi vocali Silvia di sicuro si sarà accorta che ho l'accento piemontese e niente siete taggati tutti quindi se vi è piaciuto questo tag e volete magari riproporlo sul vostro canale ne sarei veramente molto felice e niente ci vediamo la prossima volta col prossimo video ciao